ciao a tutti ben trovati nel canale ivi e lascia vivere questa settimana non ho avuto tempo assolutamente di fare un video e quindi per colmare questa cosa ne farò uno per raccontarvi una cosa riguardante l'assistenza che ho avuto dalla apple qui in UK con la speranza che magari veda questo video qualcuno che se ne intende di tecnologia che mi possa lasciare nei commenti anche un consiglio su cosa io posso fare in questa situazione cerco di essere sintetica praticamente avevo un iphone 5s usato svariati anni comprato di seconda mano da però da una persona che l'aveva tenuto benissimo ok è una persona che io conosco una mia ex collega di lavoro e amica che si era comprata l'iphone 6 e che quindi dava via il suo 5s e l'ho preso io ok e l'ho usato tranquillamente per anni mi sono trovata benissimo se non che improvvisamente con l'aggiornamento del sistema operativo ios 11 che poi ha fatto velocemente altre versioni di questo sistema operativo e attualmente siamo alla 11.2.6 l'iphone 5s che io avevo funzionava bene ma la batteria franava incredibilmente e quindi io ho qua a brighton ovviamente c'è un apple store e io vado a questo apple store portando questo iphone 5s dicendo guardate secondo me in seguito al sistema operativo la batteria non regge più e loro che mi dicevano che no non era il sistema operativo lasciamo perdere il fatto che un signore davanti a me che ascoltava la conversazione intervenne anche abbastanza fervorato dicendo come non è il sistema operativo lo stesso è il sistema operativo che non fa funzionare il telefono chiusa parentesi loro mi dicono ma no ma è la batteria perché vedi il telefono è vecchio dice perciò possiamo cambiare per 79 sterline io per 79 sterline cambiare la batteria è un telefono che funzionava bene mi era sembrato un affarone perciò prendo e io lo lascio volentierissimo torno il giorno dopo che è il 2 febbraio e loro mi dicono che il telefono oh oh si è rotto per cambiare la batteria anche se secondo me loro il telefono non l'hanno toccato perché loro arrivano con una scatola con il telefono nuovo che però non è una scatola da vendita no è una scatola proprio da prodotto di sostituzione il mio telefono vecchio che secondo me era in tonso non l'avevano proprio toccato e mi dicono che mi devono sostituire il telefono perché in seguito al tentativo di cambio di batteria il telefono si era danneggiato ovviamente ho perso delle applicazioni che mi servivano un esempio tra tutti l'applicazione di un e-credit che ha bisogno di essere disinstallata da vecchio apparecchio prima di essere installata in quello nuovo quindi quando io torno in Italia dovrò sperare che un e-credit trovava un sistema per ridarmi l'applicazione che a me era molto utile ok ma a parte questo io ho perso anche alcune cose che avevo a livello di ricordi non in quel telefono vabbè perché il backup che l'ultimo che avevo era vecchio ha perso una valanga di cose che io ci tenevo per fortuna una sessione di foto l'avevo salvata a una chiavetta usb perché dico tante le volte infatti comunque nulla loro mi sostituiscono il telefono e a lei mi sembra anche un ottimo servizio al cliente mi hanno sostituito un telefono dandomene uno nuovo wow che bello ovviamente io vi faccio vedere adesso un video dove vi faccio vedere che quando voi avviate iphone 5s siete costretti a mettere il sistema operativo ios 11.2.6 allora c'è da dire che io volevo fare la furbata di non scaricare ios.2.6 all'attivazione ma come vedete non ho modo di attivare iphone 5s senza fare quello cioè fa parte proprio della procedura dove scaricare ios 11.2.6 scaricando questo iphone è possibile che non funziona più di nuovo e come appunto come potete vedere da questo video siete costretti appunto a metterlo e non potete proprio andare avanti a procedura di installazione del telefono ma il telefono quello dato il 2 febbraio impazzisce nel senso si accende si spenge da solo e niente io questa anomalia controllo su google continuano a dire che dipende dal sistema operativo torno alla apple a dire scusate io ho letto nel sito apple che alcuni dispositivi hanno problemi con il sistema operativo ios 11.2.6 quindi a questo punto secondo me iphone 5s non funziona con questo sistema operativo e loro a dirmi che nooo sei stata sfortunata e hai avuto la sfortuna di trovare questo telefono che non funziona questo succede il 14 marzo due giorni fa che io riporto questo telefono dopo i variati tentativi di cercare di tenerlo in qualche maniera e mi cambiano di nuovo il telefono questo fa una performance ancora migliore nel senso che lui e lui comincia subito a impazzire e vi faccio vedere il video di quello che fa anche staccato dal caricabatterie continua a accendersi spingersi accendersi spingersi accendersi spingersi così fa questo e niente quindi praticamente non sono proprio io non lo so dovrei secondo loro tornare e cambiarlo per la quarta volta è veramente una cosa imbarazzante io rimango malissimo malissimo guardate malissimo come potete vedere si accendeva e si spengeva da solo continuamente proprio impazzendo niente quindi io ieri torno al Apple Store e questa volta siccome io tornando un passo indietro io devo dire che i commerci dell'Apple Store erano tutti gentilissimi talmente tanto gentili che quasi esagerano che quasi ti viene da dire questo è un aver cura del cred così tanto che sembra quasi un atteggiamento perfetto per una casa di riposo magari nelle case di riposo la gente fosse così gentile invece di vedere i video terribili che si vedono qualche volta che gli anziani in case di riposo li picchiano dovrebbero mandarci chi lavora la Apple lavora nelle case di riposo perché sono perfetti sono gentilissimi questa volta però arriva un ragazzo diciamo il poliziotto cattivo perché io è la terza volta che torno per lo stesso problema e lui mi dice però te quando hai portato il telefono a giustare era cinque anni che tu lo utilizzavi ora io non lo so se sono cinque anni non mi ricordo quanto la la mia collega che aveva comprato il telefono prima di me l'aveva tenuto non ho idea comunque il telefono diciamo che aveva cinque anni di età e io gli dico sì però potevi dirmi non te lo aggiustiamo capito potevi dirmi non è possibile aggiustarlo il telefono a cinque anni finché durava verdura no dico voi invece me l'avete sostituito con un prodotto che non funziona quindi insistevo a rivolere indietro le mie 79 sterline perché dico evidentemente questo prodotto non funziona e lui mi dice che non era assolutamente possibile riavere i soldi doveva darmi un altro altro ancora al telefono e che eventualmente se non lo vuoi più l'iPhone 5 te lo do perché te lo devo dare nuovo te lo rivendi ecco secondo me io a quel punto dico che secondo me non è proprio una scelta molto ecologista come in un'azienda e lui allora mi fa vedere un video dove mi mostra che c'è una macchina che disassembla tutti gli iPhone e praticamente recuperano pezzo per pezzo quindi a livello ambientalista la Apple non è un'azienda che crea una montagna di rifiuti se qualcuno è informato su questa cosa scrivetelo nei commenti di dirmi non è vero non ho niente tutti i problemi ambientali del mondo dipendono dall'Apple vabbè io comunque mi ritrovo che ho da ieri questo un altro iPhone 5S che anche questa volta ho dovuto avviare inserendogli il sistema operativo io non l'ho manco spellicolato per farvi vedere che è nuovo proprio nuovo e vedrei allora qui inserisci la password bla bla qui sta facendo le aggiornamenti alle cose ora mi dice di inserire la password per Outlook sta facendo gli aggiornamenti delle applicazioni allora io non capisco perché se ditemi voi se qualcuno si intende di tecnologia se effettivamente come penso io che iPhone 5S non è più adeguato a supportare il sistema operativo iOS 11.2.6 se c'è qualcuno che si intende di leggere se io porto un telefono aggiustare pago non viene aggiustato perché io non posso riavere i soldi indietro questi mi danno all'infinito i telefoni nuovi è una cosa normale ovviamente si sta parlando di la Apple in UK quindi dovrei sentire forse un equivalente dell'ufficio consumatore qui in Inghilterra se ho tempo ci vado se ho tempo perché non ce l'ho tempo tra lavoro e studio però a questo punto spero che la Apple in Italia agisca in modo differente io quando ho avuto problemi con il telefono con la Apple in Italia Apple Italia mi venne a prendere il telefono a casa e me l'ha rimandato capito anche loro mi hanno sostituito il modello però il modello funzionava cioè qui mi dà l'idea che mi sostituiscono un telefono rotto con un telefono rotto se qualcuno ha qualche consiglio da darmi ben accetto e nulla assolutamente non mi è piaciuto come come hanno preso le cose qua niente vi saluto al prossimo video del canale ivi e lascia vivere e nulla passeremo ora Samsung ciao